Amici, buonasera. Finalmente un attimo di tregua per fare un po' il punto della situazione. Siamo ancora nelle giornate di ferragosto, ma è stato un ferragosto particolarmente intenso. Come abbiamo appreso tutti, come dite, abbiamo riscontrato, vi è sicuramente un abbassamento della guardia rispetto a quella che è la questione Covid. Ovviamente ciò che cosa determina? Determina che un aumento di quelli che sono i dati nazionali e regionali rispetto ai nuovi positivi. Un po' dispiace perché è evidente che dobbiamo convivere con questo virus. Però convivere col virus nella consapevolezza che i casi possano aumentare per l'irresponsabilità di qualcuno, sinceramente questa cosa fa girare un po' le scatole. Comunque, si aumentano i dati in tutti i dati, aumentano in campania, aumentano inevitabilmente anche in una città di 80.000 abitanti come quella di Casori. Ieri vi ho comunicato un positivo. Oggi, in questo momento, devo comunicarvi anche di un altro positivo. Allo stato attuale, a Casoria, ha quattro concittadini positivi al Covid. Nello specifico, una persona ottantenne ospedalizzata, un concittadino che è stato in vacanza a Malta, un'altra che ha avuto contatti con la Francia e poi un'infermiera. A tutti loro va il mio affetto, il mio sostegno, a loro e alle loro famiglie e la mia solidarietà. L'ASL sta facendo le mappature. Sono in costante contatto con il Dipartimento di Prevenzione, con il direttore del distritto, a cui va il mio applauso per il lavoro che stanno facendo. Ho notizia da parte loro che sono centinaia le telefonate e le richieste che stanno arrivando da nostri concittadini che stanno rientrando dall'estero per essere sottoposti a tamponi che ha test sierologici. Quindi, come dire, è un momento particolarmente delicato. Il rischio diventa più alto. Voglio quindi invitare tutti alla responsabilità. Certo, l'invito non è finalizzato a restringere, come dice qualcuno, quelle che sono le libertà personali. No, questo assolutamente no. Ma è semplicemente un invito finalizzato a salvaguardare quella che è la nostra salute, il nostro bene primario. Non immaginando di doverci privare di qualcosa oppure sentendoci obbligati a fare qualcosa, ma semplicemente conservando responsabilità e attenzione rispetto a quelle poche basilari regole che allo stato attuale dobbiamo continuare a mantenere. Distanziamento sociale, corretto utilizzo della mascherina, corretto, bocca e naso coperti dalla mascherina. Oggi ho adottato anche una coordinanza che sugli indirizzi dati dal Ministero della Regione prevede che coloro che vengano da Bulgaria, Romania e paese extra Schengen debbano mettersi in isolamento per 14 giorni. Chi viene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna si debba denunciare entro 24 ore al Dipartimento di Prevenzione e mandare un'email anche al Comando Vigili di Gasodia. Se si è rientrati nei 14 giorni antecedenti ad oggi, anche denunciarsi e soprattutto rimanere in isolamento fino all'esito del tampone o del test. E se non sarà fatto, rimanere in isolamento per 14 giorni. Non è possibile girare per la città in attesa che sia fatto il tampone, in attesa del risultato del tampone, in attesa che si sia chiamati, con rischio che appunto si possa essere quasi da unturi. Non è tollerabile. Quindi invito alla responsabilità tutti coloro, in particolare in questo momento coloro che vengono da quei paesi che sono dichiarati come paesi a rischio. Vi terrò aggiornati nelle prossime ore rispetto a quello che accadrà e chiaramente la raccomandazione è sempre la stessa, che ognuno faccia la propria parte con responsabilità.